Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Crespo e oggi siamo in un nuovo video di Phanathet with Aerobrine Ragazzi siamo nella seconda parte Io non l'ho toccato in Drembo S'ho giocato mentre ho fatto i video però poi non c'ho più giocato Ho capito che Ripple è scena E ragazzi sto registrando se mi sentite mi hanno sto registrando alle 6.20 per farmi caricare due video al giorno Questa notte è più difficile non so dove l'ho letta nemmeno io No Direi di chiudere Questi qua sono ancora così vicini Dove nemmeno consumare così corrette Prontate ragazzi adesso devo solo vedere il nostro Foxy Che già si è mossa Questa è Foxy perchè non lo so No Io lo chiamo Foxy perchè non c'è i nomi loro Perché questo qua sembra Ero Bray Sembra Steve Steve con la faccia dello slime Con gli occhi Con gli occhi bianchi Con i capelli manoni Vai da qua I soldi qui Ado Aspetta dobbiamo vedere se si posso La faccio Sono Sotto Eh bebe Beh bebe Eh bebe Eh bebe Eh bebe Partito Partito Foxy no e dovremmo vedere solo esclusivamente queste porte che lo faccio uccidere e Foxy se mi dai il tasto, se mi dai il tasto, chiaramente io li devo vedere solo quando saranno vicina alle porte oppure staranno nell'altra porta, però io non li vedo, io non li vedo, come io non li sento nemmeno ok, non c'è che sta facendo, non c'è, proprio sta facendo i bordelli in cucina, eh prima, prima, vabbè, stiamo consumando poco ragazzi, quindi 20, 40, 60, 80, 50, ce la facciamo fino alle cinque, così, ok, qua non mi sto controllando, io, se mi ricordo, io nella sesta notte non mi controllavo, controllavo, so, effettivamente a Foxy, che infatti, ora non si muove più, perché Foxy ha arrivato un momento all'altro, invece questi ci mettono, fino a rari, tre arrivano ragazzi, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, c'è, perché, guarda, se andate a vedere i cartelli, anche lì sembrano cattivi, invece, no, invece su Fine, eh, su Fine, eh, su Fine, eh, su Fine, eh, erano bravi, erano bravi, erano bravi, solo la notte si comportavano male, e quindi, ma non viene nessuno, ho consumato veramente poco, se mi dai la lancetta, ti, ti, mi fai un fa... ragazzi, quello che mi... ragazzi, mi è venuto qualcosa del stomaco, ve lo giuro, vedere i pigmen fuori la porta, mi è venuto qualcosa di brutto, ovviamente a Foxy adesso non gli conviene venire da me, ve lo giuro ragazzi, che cagata d'orso... è andato, no? no, anche se è andato... no, anche se è andato... che cagata di dorso... niente, sono resistente se, se si fanno le tre di notte... ho consumato un poco di più, perchè che ve lo ti devo... devo guardare anche Foxy io... è partita Foxy! mamma mia ragazzi! mamma mia che culo! ma che sta succedendo... Foxy... Foxy... ah ma sta lì... è Gesù Santo, ma chi la vede lì? è proprio fatto... è proprio fatto... però se non mi dai coso, eh... significa che mi va anche tu perder... oh... ah... dai... eh... eh... oh... è mamma mia ragazzi... no me o da! no... no... tutto baggardo... soffertate... soffertate... c'è ragazzi... non mi dai pulsante... a me o metti un pulsante che sta fisso... no... lo devi fare... mettere tu... ovviamente ragazzi... stiamo resistendo... veramente bene... insomma... no... meglio dell'altra volta... dai... è partita... oh... no... ragazzi... no... devo morire... che culo... è la partita Foxy... è la partita Foxy... è la partita Foxy... dai... ma quanto si fanno? ok... adesso sta così... mamma mia... veramente però non è tanto così... oh... bella... la... seconda notte... non è come a fare... dei sfreddi su... è molto più difficile... eh... no... no... devo disolvere... è vero... quattro notte... se quasi al venti per cento si fa... dove cinque notte significa che... eh... inizio a perdere... guarda qua... adesso me lo do subito... e adesso me lo... hey... vedo... adesso mi vedo... quando esci... poi lo vedo... vedo un altro... ok... ragazzi... stavo resistendo... veramente bene... non so se ci sta ancora... o il... Gesù santo... ma sei come pony... veramente si... come pony... ragazzi... ma vedete... ma state vedendo... ma come si fa... è parte di nuovo Foxy... è partita di nuovo... in... in due ore... ma vabbè... guarda... vabbè... ragazzi... però... la notte è vinta... la notte è vinta... ragazzi... dai... no... 8%... dai... esistiamo... esistiamo... 8... 7%... 8%... 8%... dobbiamo vedere il polio... il polio non si fa vedere... in queste notte... è come al Cica... si fa vedere... nella terza... nella quarta... nella quinta... nella sesta... è un gruppo... raga... state scherzando... ragazzi... state scherzando... no... e dai... ma quanto cazzo si fanno... le cinque di notte... no... no... devo perdere... devo perdere... si fanno più... le cinque di notte... e invece si... ragazzi... e invece si... siamo solo... le sei di notte... e ce ne andiamo... ah... e ce ne andiamo... alle terzonotte... ragazzi... terzonotte... che io... non farò... eh... ragazzi... penso che il video... può finire qui... e alla prossima... c'è ragazzi... c'è ragazzi... ciao...